ognuno lo può dire a modo suo lui lo dice così si sveglia la città non dice mai la verità il più bugiardo chi sarà? lutta Lidia per sempre insieme e tutti quanti salutano Angelo si dice che bisogna seguirlo in tutto quello che fa in ogni suo movimento la 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 benissimo benissimo grazie a tutti grazie a tutti Emiliano in prima linea grazie a tutti 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 Adesso è bella, facciosa, sì, è una lite, sono due che sta solidificata. Vuoi parlare? Vuoi chiamare? E dove sarà e vai più solo? Avaguardia progressiva. Grazie a tutti. 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 bello. a tutti. 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 a tutti.